Al momento siamo 11 colleghi invece che 20 che dovremmo essere sulla carta, quindi è chiaro che negli anni a venire non riusciremo a mantenere questo ritmo di produzione delle sentenze perché siamo troppo pochi per poterlo fare. La giustizia amministrativa rischia di ingolfarsi per la mancanza di giudici, i contenziosi nell'ultimo anno sono cresciuti ed il relativo disbrigo, in particolare nel settore dell'edilizia, non ha subito intoppi ma la preoccupazione è tutta per il futuro con l'applicazione dei progetti del PNRR e di ricorsi che ci saranno il rischio concreto è di ingolfarsi fra le carte del Tribunale amministrativo. Nei 47 paesi che riguardano il Consiglio d'Europa la media dei magistrati in servizio è 22 magistrati ogni 100.000 abitanti, noi ne abbiamo la metà. Pecularità del campo amministrativo e la territorialità, il governo sembra intenzionato a dar vita ad una nuova sezione che soltanto in Lazio si occupi delle procedure che riguardano il PNRR, una soluzione che non piace al tar della Toscana e che invece vorrebbe rinforzi sul territorio. Personalmente io sono contrario, non credo che serva questa norma a accelerare le opere perché come vi dicevo prima i tempi di decisione di tutti i tribunali sono certamente più veloci e distribuendo le opere là dove vengono realizzate ovviamente i tempi rimangono tali, mentre invece se vengono concentrate tutte le opere in un unico tribunale chiaramente i tempi verranno allungati oltre la responsabilità che cadrà solo su quei colleghi per opere milionarie.